In questo nuovo video io sono Monta, Montaneri il canale, nel momento in cui vi sto parlando il Milan sta vincendo 4 a 1 e la Roma 3 a 0 Che dire, che dire, che dire, partiamo da ieri come sempre iscrivetevi, attivate la campanellina, mettete mi piace, commentate, condividete e fate iscrivere anche amici, parenti, cugini, nipoti Detto ciò, appunto, partiamo da ieri, devo ancora riprendermi Ieri sera non ho fatto il video per diversi motivi, sia per lavoro, sia perché ero stanco sia perché dovevo ancora un po' riprendermi dalla brutta prova incolore e imbarazzante dell'Atalanta Non sono preoccupato, perché l'Atalanta è una squadra ad andamento lento Nel senso che normalmente le prime partite del campionato fa sempre molta fatica Già col Torino abbiamo avuto una bella discreta botta di culo a portarcela a casa Ieri non abbiamo fatto più di tanto per vincerla Il Bologna aveva messo un pullman davanti alla porta L'unica cosa che io veramente non capisco è perché Gasperini non faccia mai cambi prima del 75esimo Ha questo problema qui Se non è costretto a farli non li fa Obiettivamente è un Pasalic impresentabile Sono già due o tre partite che è veramente impresentabile Poi, oh, magari è solo mio umile parere personale Però per me è impresentabile, orora Ilicic meglio, meglio delle ultime uscite Ha fatto comunque qualcosa Ci ha provato Anche se comunque non è bastato E non è poi ancora il vero Ilicic Perché comunque non basta una provina da 6 6,5 per dire che Ilicic è tornato Ilicic Detto questo, se sentite russare sotto Mi dispiace, è il mio cane Non so cosa farci Purtroppo russa con un trombone E altre cose da dirvi Appunto Facciamo una squadra imbalazzante E' una squadra che fa un bel gioco E ti fa divertire Ed è il caso della Lazio Lazio che vince 6-1 Immobile stellare Tripletta Ha giocato veramente, veramente, veramente bene Considerate che ha sbagliato anche un rigore Quindi Immobile E quindi Immobile quando è in giornata È un punto di forza Come Come Felipe Anderson Che Per il gioco di Sarri E per come gioca Sarri Appunto Potrebbe essere Un punto di rottura Potrebbe essere veramente Un ottimo, un ottimo Acquisto per il vostro Fanta Calcio Io ve lo consiglio Così sotto le righe Attenzione a Felipe Anderson Perché Sì è un cavallo di ritorno Ma ripeto Con Sarri Può fare veramente bene Detto questo Cosa è successo ieri sera? Incredibile La Juve La Juve Una Juve Veramente Boh Deludente Senza gioco Imbarazzante Come Come l'Atalanta Sì L'Empoli È vero Non ha fatto Chissà cosa Per vincerla Perché Ha fatto un gol Di Rimpallo Di rinculo Con Mancuso Però Però Non ha neanche rubato niente L'Empoli è andato lì A fare la sua partita Sperando di non prenderle Che ha portato a casa I tre punti Un po' Miracolosamente Però ecco Una Juve Che non Non mi ha proprio convinto Per niente Sentendo gli amici Juventini Uguale Io non sono Juventino Lo sapete Però Sono abbastanza Obiettivo E obiettivamente Bibbib Bababà Parlando È stata Una sorpresona Non credo Che ci siano Più di dieci persone In Italia Che abbiano giocato L'X2 Dell'Empoli Neanche i tifosi Dell'Empoli Quindi Quindi Juve Ufficialmente Detto così Come si suol dire Nei grandi Talk show Calcistici In crisi Perché comunque Un pareggio con l'Udinese E una sconfitta Con l'Empoli Diciamo che non è proprio Il momento Buono Per la Juve Però Io Aspetterei A Ballare Su Come si dice Sulle ceneri Sul Si dice in un'altra maniera Ma non si può dire su Youtube Prima di cantare vittoria State attenti Perché comunque Allegri mi ricordo Che ne perse parecchie E poi recuperò E vinse uno scudetto Non molti anni fa Quindi Io aspetterei A dichiarare morta Una squadra Che in realtà Per me È sempre lì Ovviamente Senza Ronaldo Non ha più Quella spanna e mezzo Di Superiorità Che gli davo 20 giorni fa Keen Non può bastare Ci sono Chiacchiere Di Icardi Ma Quelle ormai Ci sono da un po' Oltre Icardi Serie A St'altro anno Ovviamente Sarò Versaglio Di prese Per il culo Perché Non ne beccherò una Qua sono i pelli del cane Come sempre E niente Oltre Comunque A questa De Bacle Della Juve C'è da registrare La vittoria Della Fiorentina Una Fiorentina Convincente Che Ha messo giù Italiano Veramente bene Mi piace Come lavora Quel mister Mi piace È una buona Fiorentina Perché Anche con la Roma Non aveva Sfigurato Ed è meritato Più di tanto Vi richiedo Scusa Per il cane Che russa Non posso Fare altrimenti Veniamo oggi Veniamo oggi Oggi un Napoli Che ha fatto Molta fatica A vincere La Genova Non stava Demeritando Il Genova Probabilmente Un pareggio Sarebbe stato Più giusto Alla fine Entra Petagna E dopo due minuti La risolve E vince il match Diciamo che Un Napoli Oggi Più da rivedere Rispetto a domenica Scorsa Che comunque È riuscita A portarsi a casa Una vittoria Buona Perché a Genova E comunque Non Facendo Finimondo O sfracelli Spalletti Si è portato a casa Altri tre punti Sassuolo Sassuolo Sampdoria Deludente 0-0 Partita Che i più Bookmakers Scommettitori Davano Come da gol Over Sti grandi Cazzi Come si suol dire È finita 0-0 Non l'ho vista Quindi non posso Commentare Ma Credo che Sia un risultato Giusto Spero di non dire Una fesseria Nel momento in cui Vi sto parlando La Roma Ha fatto il quarto gol Quindi 4-1 Del Milan E 4-0 Della Roma A Salerno Che botta Queste però Ce le aspettavamo Un po' Ste due vittorie Qui di Milan E Roma Detto questo Appunto Calcio mercato Delle gran news Non ci sono Come vi dicevo Petagna L'ha risolta per il Napoli E Petagna È stato ufficialmente Tolto dal mercato Da Spalletti Quando si vociferava Invece che potesse Andare via La Sampdoria E altre squadre Interessate a lui È invece Rimasto a Napoli E oggi Gli ha fatto vincere La partita Quindi Se è vero Che Spalletti Si è rifiutato E ha bloccato La cessione Ha fatto bene Perché Oggi gli ha dato Tre punti Mi auguro di cuore Che piccoli Resti All'Atalanta Perché è un giocatore Che a me piace L'ho già detto In altre sedi In altri video Volevo dire Lo ripeto Perché ci sono Ste chiacchiere Sempre continue Su piccoli Che può andare allo Spezia Su piccoli Che può andare via E quindi E quindi Io mi auguro Che non vada via Perché ieri Gli è stato Concesso Poco più di un quarto d'ora Quindi In un quarto d'ora Non può risolverterla Tutte le domeniche Detto questo Di calcio mercato Appunto C'è Kina La Juve Altre news Clamorose Non ci sono Intanto vi guardo Se c'è qualche Aggiornamento In presa diretta Della Delle partite Mentre Mentre vi sto parlando No Non leggo nulla Di No Non c'è niente di che Tra l'altro Oggi Stasera Prima partita di Messi Con la maglia del PSG Eccolo qua No Niente Nessun Eccolo qua Niente Niente ragazzi Non c'è Non ci sono altre notizie Ha fatto gol Giroud Per il Milan Quindi questa è comunque Un'offerta Un'offerta Una Una notizia Perché È un buon giocatore Anche Caputo Si ho letto Caputo Continuo a dire Delle cassate Giroud Comunque Anche se ha la sua età In serie A Può fare bene Ragazzi Io vi saluto Ci vediamo al prossimo video Come sempre Iscrivetevi E Ci vediamo Durante la settimana Che appunto Parleremo Degli ultimi colpi Di mercato Se riesco Sia domani Che a martedì Però Se domani Non c'è niente di accratante Passiamo direttamente A martedì Vi invito A iscrivervi Anche Nei miei social Li trovate in descrizione Farò la diretta Su twitch Della fine del calcio Mercato Martedì Ipoteticamente Dalle 6 Dalle 5 Non lo so Fino alla fine Del mercato Appunto Ciao ragazzi Ci vediamo al prossimo video E Buone inizio settimana A presto